Pesaro, Fano, Urbino e ora di nuovo Pesaro. La protesta degli agricoltori provinciali è tornata al punto di partenza. Oggi 130 trattori provenienti anche dalle vicine province di Ancone e Rimini si sono radunati in presidio in zona Cinque Torri ritrovandosi poi al vicino centro socioculturale di Via del Novecento per l'assemblea costituente di un movimento che da Pesaro punta a strutturarsi e amplificare la propria cassa di risonanza al cospetto di istituzioni ritenute ancora sorde dopo un mese di proteste. Ci sono dei rappresentanti dei movimenti, dei gruppi più importanti a livello italiano e ci sono diversi dialoghi con tutte le altre province della regione per formare un comitato unico. Purtroppo le istituzioni si stanno girando ancora dopo un mese dall'altra parte. Domattina gli agricoltori arriveranno poi in Piazza del Popolo accompagnati da una piccola rappresentanza simbolica di trattori ma con un grande presidio di lavoratori che attraverso volantinaggio divulgheranno i motivi di una protesta che sta strangolando la categoria e che si riflette sui consumatori. I problemi sono le concorrenze sleali, noi abbiamo dei disciplinari forti, importanti, stringenti a livello sanitario e vogliamo che tutti i prodotti che entrano dell'estero rispettino le nostre normative. Per la salute nostra, dei nostri figli e di tutti i consumatori. Ridistribuzione e rivisitazione della filiera. Non è possibile che oggi, per fare un esempio pratico, per far capire a chi ci ascolta, un chilo di grano duro con cui si produce la pasta viene pagato 35 centesimi, mentre la pasta è mediamente 2 euro al chilo. Non è possibile che un chilo di grano tenero oggi viene pagato 20 centesimi all'agricoltore e al consumatore il pane mediamente 4 euro, 4 euro e 50 al chilo. Bisogna rivedere la filiera profondamente in modo da dare più potere d'acquisto al consumatore e in modo di poter far reddito a tutti gli agricoltori.